Musica Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video come al solito, io sono Gabri AHHHHH BIRILLO Oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai birillo, esponicelo Tupuff alla fragola ragazzi una cosa da non credere hanno messo questa aroma di fragola dentro al Tupuff levando il caramello tanta 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 roba è un aroma a 20,5 ci va messa la baseta, chi ci vuole la nicotina chi non è a zero andiamo a fare la prova di svapo di questo liquidozzo preso dal svapo caffè ricordiamo Marina di Carrara Molicciara e la spezia andatelo a trovare vai Gabri lo tsunami kit lo tsunami kit io sono la Tesla Invader 3 e il gunazzo buono 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 tu credi di avere il Tupuff normale invece senti questo settore di fragola buonissimo valido come se liquidozzo per l'inverno la copertina per me da 9 9 l'hanno zeccata un buonissimo liquido noi lo consigliamo se chi lo vuole trovare sicuro rimarrà contento di questo liquidozzo qui non è più informato come una volta la boccita di mitra di plastica perché devi fare mix and vape ci butti tutto dietro allora dalla taverna dello swap e tip se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a seguire ciao